Oggi mi metterò alla prova con gli sclefotti di fragole e frutti di bosco e gli ingredienti sono 200 g di fragole, 50 g di more, 50 g di lamponi, 50 g di mistilli, 250 ml di latte, 100 g di zucchero, 3 uova, la scorza grattugiata di un limone, 120 g di farina doppio zero, 8 g di vanillina e lo zucchero a velo per decorare. Per prima cosa ho messo le uova e lo zucchero in una ciotola, poi demonto fino ad ottenere un composto sfumoso. Poi aggiungo la buccia del limone, la farina un po' alla volta e continuo a mescolare con un cucchiaio e quindi verso il latte a filo e mescolo bene ed infine aggiungo la vanillina. Poi metto sul fondo di una tortiera ricoperta con carta da forno ed infarinata le fragole già lavate e senza piccioli, le more, i lamponi e i mirtilli, sempre lavati e asciugati. E quindi verso l'impasto nello stampo, poi metto il tutto in forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti. Una spolveratina di zucchero a velo e il trifote è pronto, speriamo bene!